Hai mai pensato di aiutare un cavallo a vivere libero? Da più di 15 anni, noi di LAV, ci prendiamo cura di cavalli e asini salvati da situazioni di abuso e maltrattamento. Come Gigio, un cavallo che viveva all'interno di un allevamento abusivo a Venaria Reale, in provincia di Torino, insieme ad altri 67 animali. Li abbiamo salvati tutti dalla macellazione e ora Gigio vive in compagnia della cavalla neve e dei due asini, Berta e Bertina. Dallo stesso allevamento abbiamo salvato anche il maestoso Lucky Day e la dolce Evelina. Loro due hanno sempre vissuto insieme e sono inseparabili. Con noi poi c'è anche Lady Peanut, una stupenda purosangue inglese che abbiamo portato in salvo da Catania, in Sicilia. Non aveva mai vissuto all'aperto e quando l'abbiamo liberata non sapeva mangiare l'erba del prato e nemmeno bere dall'abbeveratoio. Se ne stava tutto il tempo ferma in un punto e non voleva stare con gli altri cavalli. Ora però le cose sono cambiate. Lady Peanut si è ambientata e si gode la vita in piena libertà insieme a Tempesta, un giovane cavallo che abbiamo salvato quando era un puledro di appena sei mesi. Ma nel centro di recupero per animali di Semproniano ospitiamo anche quattro cavalli che venivano costretti a esibirsi in un circo e ci prendiamo cura di un gruppo di sei cavalli anziani. Tutti i cavalli e gli asini che abbiamo salvato ora vivono in grandi spazi aperti dove possono correre, rotolarsi, stare in branco e socializzare tra loro liberi da qualsiasi forma di sfruttamento. Noi li abbiamo salvati e garantiremo loro cibo, cure veterinarie e assistenza fino alla fine della loro vita. Ma per farlo abbiamo bisogno anche del tuo sostegno. Aiutaci a prenderci cura di loro ogni giorno. Dona ora! Grazie a tutti!